Google Ads per i video. Oggi vedremo in che maniera realizzare delle campagne video sfruttando Google Ads. Questo video fa parte di una serie di video che ho realizzato insieme grazie alla collaborazione con Fabio Antichi e trovi tutti i link in descrizione. Adesso andiamo a vedere in che maniera creare una campagna video con Google Ads. Andiamo. Adesso andiamo a vedere come settare una campagna video su Google Ads. Se ci sono tante tecnologie, cercheremo di farlo impiegando pochissimo tempo. Benissimo. Fabio, io switcho allo schermo così. Voilà. Quindi adesso tu vai allo schermo condiviso ed è tutto tuo. Io ogni tanto ti farò qualche domanda. Certo. Parto subito a bomba. Creare una campagna video. Quindi partiamo dal più nuova campagna. Già qui, nel caso delle campagne video, troviamo un dubbio che è abbastanza importante. Nel senso che se scegliamo delle strategie, quelle che si usano più spesso quando facciamo una campagna di ricerca, tipo vendite on lead, vi faccio un esempio, scelgo vendite, qui mi mostra quali obiettivi sto monitorando in questo momento, dico continua, scelgo video e come vedete ho una sola opzione. Mi farà fare una campagna intelligente, sostanzialmente. Quindi sarà lui a... sarà poi Ads a gestire il video come ritiene che è opportuno. È una campagna che ha senso, nel senso che comunque l'intelligenza artificiale di Google Ads funziona sempre di più, funziona benissimo, quindi non è che di per sé sia sbagliata. È una strategia che possiamo utilizzare. Tra l'altro vi ricordo che oggi anche una campagna per Formax Max, con la quale tutti dovremo fare i conti, contiene in maniera obbligatoria un video. Quindi se non ce lo mettiamo noi, ce lo metterà lei da sola, facendo dei video forse non un gran che. Per questo genere di campagne c'è il link in descrizione sotto perché abbiamo registrato un video. Perfetto. E quindi insomma conviene appunto, l'intelligenza artificiale gestirà i nostri video, quindi da questo non scappiamo. Detto questo, se andiamo a montare una campagna qua dentro, vediamo che ci chiede il nome, tipo di strategia, massimizzo le conversioni, CPA target, valore di conversione quando esso sia tracciato, eccetera. Possiamo scegliere l'intervallo, il budget, l'intervallo di tempo, la località, le lingue e come nelle campagne che già conosciamo, quindi il tipo di inventario, dove vogliamo andare a pubblicare se siamo attenti a certi tipi di contenuto. Aspetta, aspetta, l'inventario che vuole dire? Praticamente Google ti dice vuoi che il tuo video sia visibile in siti tipo con volgarità eccessiva, nudità, poi c'è quello standard che usa lui, è limitato. Diciamo che l'unica cosa che ci può interessare è che se trattiamo un tema particolarmente sensibile possiamo scegliere il limitato. L'espanso non lo consiglio, anche perché tendenzialmente avremo volumi molto grandi. La difficoltà in questi casi qui è un po' come sui social, è raffinare il pubblico, quindi riuscire ad avere la propria nicchia. Possiamo scegliere i site link, possiamo utilizzare quelli a livello di account. Nelle impostazioni aggiuntive troviamo i dispositivi e possiamo andargli a selezionare. Qui troviamo una cosa molto interessante, la questione degli schermi tv. Noi volendo possiamo organizzare YouTube, di fatto è una televisione. Quindi noi possiamo selezionare gli schermi tv o alcuni dispositivi con contenuti dedicati. Questo non fa mai male. Quindi se noi sappiamo che su alcuni dispositivi è preferibile un certo formato, un certo video e quant'altro. Altrettanto sistemi operativi, modelli di dispositivi, reti, quindi abbiamo degli aspetti abbastanza interessanti. Quota limite. Limita il numero di volte in cui lo stesso utente può visualizzare gli annunci di questa campagna. Ok. È una cosa abbastanza interessante, è il capping che avevamo su Facebook Ads. In realtà non mi sento di dare un consiglio in merito a questo valore perché a quanto pare siamo sempre più, come si può dire, abituati alla pubblicità. Per cui siamo poco sensibili ad essa. Dobbiamo essere molto molto bombardati prima che essa faccia presa su di noi. Quindi non mi sento di consigliare arbitrariamente a priori di dire no, non glielo mostrare più di X volte, ma probabilmente è giusto che gli venga mostrato. Questo dipende anche dall'obiettivo che abbiamo sul video, giusto? Certo, ovviamente. Però tendenzialmente il video ha lo scopo di far sì che io me ne accorga di aver visto quel video. Io me lo ricordi e mi stimoli a compiere un'azione che può essere sia il click su di esso, l'iscrizione a un canale, il venire sul tuo sito. Indipendentemente da qual è l'azione, è improbabile che la prima volta che vedo un video io sia già così convinto da guardarlo tutto, da prestarci attenzione. Ci sta che debba beccarlo più volte. Lascerai fare l'algoritmo in questa fase. Poi, una volta rodata la campagna, uno può cominciare a fare esperimenti. Fra l'altro è nata l'opzione anche proprio per fare gli esperimenti sulle campagne video che quindi si possono andare a fare delle modifiche e vedere come funziona. Cioè, per esempio, per strategia, se volessi sponsorizzare un mio video, mi consiglieresti di fare cosa qui? Allora, in questo caso qui, inizialmente ti consiglierei di non farlo. Quello che ti consiglierei di fare, adesso guarda, ti finisco la carrellata su questo tipo di campagna e poi ti faccio vedere che cosa adotterei io. Pianificazione di annunci, qui ti fa scegliere gli orari, misurazione di terze parti, se c'è un modo di tracciamenti esterni, eccetera. Però queste sono cose che, rarissime, quello dove di fatto dobbiamo andare a lavorare sono i segmenti di pubblico, quindi dobbiamo andare a scegliere chi ci interessa, chi vogliamo mostrare questo video. E questo è uno degli aspetti più importanti. Infine, impostazioni avanzate, qui possiamo dire dove vuoi che appaiono i tuoi annunci, quindi parole chiave, argomenti, posizionamenti, quali siti, che parole chiave hanno cercato questa persona in precedenza, che può essere tipo il nome di un competitor, no? Facciamo un esempio molto semplice. Dopodiché noi gli diamo il link al video che ci interessa sponsorizzare. E non è nemmeno necessario che questo video sia sul nostro YouTube, no? Noi possiamo prendere un video che desideriamo. Vederemo poi che però collegando negli strumenti e impostazioni, cerco di andare veloce perché appunto abbiamo pochi minuti, cercando di impostazioni, strumenti e impostazioni, noi abbiamo account collegati, qui possiamo collegare, matchare il nostro YouTube con Google Ads, il che ci dà maggiori metriche. Avremo più informazioni a disposizione, ci renderà più facile, ad esempio, fare del remarketing. Quindi su coloro che hanno già visto un video, andargli a proporre fase A, fase B. Ti faccio vedere però quello che secondo me è un buon modo per fare le campagne video. Questa è la campagna automatica, semplicissima appunto. Se in questo caso, per esempio, tu potresti prendere il video che noi stiamo registrando e lo potresti sponsorizzare, anche se non è nel tuo canale. Esatto, ti faccio un bel regalo. Ok, perché magari tu vuoi avere più visibilità, allora lo fai tu stesso direttamente. Eh, diciamo che in questo caso qui la visibilità la regalerei a te. Quindi vi consiglio di utilizzare il video del vostro cliente, ma che cosa può succedere spesso? Che il cliente vi dice, ok, facciamo la campagna video, ti manda il link al video su YouTube, ma non hai un accesso amministrativo su YouTube. Per cui lui non sa farti il collegamento con Google Ads, però ha fretta, e quindi devi iniziare la campagna senza aver collegato il tuo YouTube a Google Ads. Questo non è un problema perché può... Dà molta libertà al consulente, quindi, questo. Sì, ma in realtà il consulente lo vuole il collegamento, gli è comodo, gli permette di avere un tracciamento più chiaro, però spesso non si ha, perché appunto il cliente stesso non si ricorda come si accede a YouTube, è in gestione da un altro, e succede abbastanza spesso. Certo. Quello che però abbiamo visto qui è che per quanto ci siano una serie di segmenti e di opzioni, di fatto è una campagna che scorrendo una paginetta facciamo tutto. Ti voglio far vedere, invece, che cosa puoi fare con YouTube, perché in realtà YouTube ha tante, tante opzioni. Quindi torno indietro, clicco Nuova Campagna, e adesso, datemi un secondo che ovviamente è sempre lento, scelgo Campagna senza un obiettivo, che sembra un paradosso, ma questo mi serve per avere la lista completa di tutti i tipi di campagna video che ci sono. E qui ne troviamo di abbastanza interessante. Campagna video personalizzata, personalizzato in posizione, annunci, stimoli, ignorabili bumper o video in feed. Quindi questo è il primo tipo di campagna che troviamo. Frequenza target, molto carina. Questo per esempio sarebbe un video dove la frequenza dovrebbe essere elevata, giusto perché un bumper magari è breve. Esatto, questa frequenza target non l'ho ancora mai fatta io in realtà, perché non c'è da molto, non mi è ancora capitato di metterla in atto. Adesso, casomai, la scopriamo insieme. In stream non ignorabile, cioè è quel video che ti appare su YouTube e sei costretto a guardartelo tutto. Questo, perché è importante? Perché se il mio video, io so che nei primi 5 secondi non fa colpo, io ti devo imporre di guardarne un po' di più. Se invece io ho un video che funziona, che posso schippare nei 5 secondi, quindi in 5 secondi ho già fatto colpo, posso utilizzare anche una strategia automatica, perché appunto so che nel pezzo che poi posso cliccare skip, ti ho già detto quello che era per me l'aspetto più importante. Dopodiché, genera conversioni. Questa qui di fatto torniamo alla campagna massimizza le conversioni che abbiamo visto prima. Sequenza annunci. Fabio, ti posso chiedere una cosa? Prego. Per generare conversioni, si può mettere anche l'iscrizione al canale? Tu la sai questa cosa? Questo non mi è mai capitato di farlo, perché l'obiettivo di tutte le campagne che ho fatto finora era conversioni sul sito web. Sul sito? Non so. Proviamo ad andare a vedere. Potrebbe essere una cosa da vedere. No, perché vedi, mi sta guardando le conversioni che ho associato all'account. Quindi, collegando YouTube a Google Ads, è probabile che mi appaia da YouTube che invia Google Ads la conversione iscriviti al canale. In quel caso lì potremo selezionare essa. Se ciò non avviene, non possiamo farlo. Perfetto. Infine, sequenza annunci. Racconta la tua storia mostrando gli annunci una determinata sequenza a singoli visualizzatori, utilizzando annunci stream ignorabili, gli annunci stream non ignorabili, bumper e quant'altro. Questa è molto carina, perché su YouTube è molto importante generare un funnel. Cioè, io guarderò il primo, perché si comporta un po' come un social. Quindi, io sono lì, vedo un contenuto che mi sembra interessante. Vi sconsiglio di fare un video dove dici ciao, sto vendendo questa cosa. Non ne frega nessuno. Devi fare un video dove omaggi una tua conoscenza, un tuo punto di vista. Quindi, io entro in empatia con te, domani me ne arrivo un altro e penso ma lui è quello che mi piaceva. Mi guardo anche quello e a quel punto divento una persona che ti segue, che si è appassionata a te, al tuo contenuto e quindi sono disponibile a procedere al tuo acquisto, quindi a fare la reale conversione. Altrimenti, è difficile ottenere buoni risultati. La cosa che... E per questo non hai bisogno di un pubblico? Cioè, non è tipo il remarketing? Nel momento in cui lo vai a fare, ti chiede di selezionare i pubblici. Quindi puoi, puoi selezionare i vari pubblici. La cosa che è molto importante su YouTube, purtroppo, è che servono cifre un po' importanti. Perché essendo appunto sui grandi volumi e non è una parola chiave secca, come avviene sulla rete di ricerca, è difficile ottenere risultati apprezzabili e percepibili in qualche cosa che lavora comunque in una parte alta del funnel con budget piccolini. Quindi questo è un po' uno dei limiti per cui spesso si è reticenti all'utilizzo di YouTube. Perché se accendo la campagna a 5 euro al giorno, passano 20 giorni e dico, ma non mi sta cambiando niente e la fermo. Sì. YouTube, purtroppo, semina un raccolto che si raccoglierà fra un po' e serve anche un buon volume perché questo risultato sia percepibile. Che budget consiglieresti giornaliero? Dipende, dipende ovviamente. Se voglio vendere, consiglio di almeno qualche decina di euro al giorno. Ok. Non voglio fare lo spocchioso che chiede cifre improponibili, però 40-50 euro al giorno secondo me ci stanno proprio tutte. Wow. Come niente. Puoi spendere tanto tanto di più. Dipende ovviamente dal target. Cioè, se voglio vendere una Lamborghini Diablo è sicuramente più complicato. Certo. Budget infinito. esatto. Cioè, purtroppo è un prodotto molto molto emotivo. Cioè, YouTube funziona con un prodotto emotivo. Quindi io devo sì rispondere a un'esigenza presente nel mercato, ma lo devo fare con qualcosa che sia brillante, efficace, coinvolgente sul mio pubblico. Quindi tantissimo dipende dal video di cui ho a disposizione. Se sto andando a vendere, non lo so, facciamo un esempio, vendo un prodotto che tutti desideriamo, io ho il miglior prezzo del mercato, ho un ottimo sito, eccetera, eccetera, allora basta un budget piccolo. Ma spesso non è così. Spesso YouTube lo usiamo per creare consapevolezza, per far nascere la volontà di comprare qualche cosa che spesso non conoscevo bene, non sapevo che facesse al caso mio, o comunque non sono il più economico di tutti. Quindi io devo convincerti a venire da me rispetto a competitor che lo offrono a meno. Quindi allo scopo... Il video ti ha fatto bene. Esatto. Chi si ha fatto bene che crei un dialogo letteralmente con chi ci ascolta dall'altra parte. Altrimenti è poco efficace. purtroppo questa è un po' la realtà dei fatti. Bisogna imparare a fare video, da questo non si scappa. Il futuro è lì, quindi da ciò proprio non possiamo farne a meno. Perché è bello quando dite queste cose io proprio mi sciolgo. Quando mi dite che il futuro è nei video io mi sciolgo. nella storia nella storia degli advertiser che venivano da Google Ads eravamo quasi matematici. Il nostro lavoro era la gestione di cpc eccetera eccetera su mille parole chiave. Oggi è molto cambiata la partita. Ora ho scelto questa nuova campagna che ci permetteva di fare frequenza target che mi incuriosisce molto. Imposta un target settimanale e quindi la frequenza con cui vogliamo mostrarlo a una persona. beh questa io ho una di quelle campagne che suggerirei di provare. Cioè io non lascerei all'intelligenza artificiale questo ovviamente dipende dal budget perché se io ho 30 euro è difficile fare 5 campagne. Faccio la campagna intelligente che abbiamo visto all'inizio spero in bene e gli dico Google dai vediamo cosa succede. Se ho un budget un pochino più elevato voglio mantenere un po' più alto livello di controllo quindi comincerò a fare dei video dove ti dico ok è schippabile dopo 5 secondi poi faccio un'altra campagna dove scelgo invece quella dove sei obbligato a guardarne 15 e non puoi schippare dove guardare fino alla fine ovviamente serve il video adatto per una cosa del genere e poi perché no questo mi sembra molto molto carina un target di frequenza settimanale indica il numero meglio di volte in cui vuoi che gli annunci di questa campagna vengano mostrati allo stesso utente in 7 giorni questo si chiama poltrone sofà cioè questo significa fissarti nella tua memoria non mi sembra per niente sbagliato quindi se io ho un prodotto nuovo da lanciare mi sono inventato un nuovo drone che ha come ci sono mille droni nel mondo se io domani vado su google e cerco drone boh ce ne sono tantissimi io sono un produttore voglio farti venire voglia del mio drone ti impongo di vedere tante volte il mio contenuto anche qui dipende se io ho tantissimi video quindi ho un'ottima redazione non mi interessa spararti mille volte lo stesso posso spararti in consecuzione sempre nuovi video che parlano di me ma questo è un lusso pochi hanno quotanti video la maggior parte delle persone ha pochi video quindi è costretta a farti vedere spesso lo stesso però è molto spesso più utile bombardare poche persone che apparire sporadicamente a tantissimi perché è praticamente impossibile che la prima volta che mi capita un video che comunque posso schippare che comunque probabilmente ascolto distrattamente perché io stavo aspettando di vedere il video dopo quello che ho scelto io io compio già l'azione quindi ti devo martellare mi sembra una strategia che adotterei questo mi sembra giusto proverai a farla anzi proverò come nelle altre campagne troviamo le stesse impostazioni quindi questo qui rimane stabile su tutto l'unica cosa che consiglio appunto è comunque di andare a tracciare il più possibile che cosa succede a questi utenti ma appunto se avete poco budget e pochi video potete fare una campagna intelligente io prima ho scelto vendite potete scegliere lead non vi consiglio di passare da copertura del brand eccetera è molto raro utilizzare esse fra l'altro ora che passiamo a GA4 anche la visita al sito web è facilmente impostabile come conversione quindi qualora io abbia voglia di generare un grande volume di traffico sul sito lo posso fare comunque con una campagna per conversioni quindi conversioni lead se ho poco tempo poca voglia pochi video pochi soldi se ho a disposizione queste carte che capisco non ci sono sempre vi consiglio di andarvela a fare a mano quindi andate qua video e una alla volta vi create tutte le campagnine seguendo l'elenco che vi chiede lui è molto semplice con un po' di buonsenso è tutto facile non richiede particolari skills misurate nei risultati cercate di capire qual è il funnel che fanno le persone questo lo potete vedere anche un po' dagli strumenti potete andare a vedere i modelli di attribuzione e quindi andare a vedere come una persona passa da una campagna all'altra questo è molto molto utile perché tipo tipicamente che cosa farà un video? avrà un impatto nel numero di ricerche brand che ho quindi vedrò un aumento anche delle mie ricerche brand anche in search console nella parte organica quindi questi sono gli aspetti da monitorare faccio una campagna per un mese fra un mese oltre alle varie metriche che trovo dentro Google Ads c'è da andare a vedere in search console se sono aumentate le ricerche sulla mia chiave brand o sul prodotto che sto andando a promuovere questi sono un po' gli aspetti da tenere in conto nel momento in cui si fa una campagna video spero di aver riassunto i stupali punti Fabio grazie infinitivamente per averci condiviso la tua esperienza per quanto riguarda i video e la sponsorizzazione di questi ok ci vediamo con i prossimi video con Fabio certo ok ciao Fabio grazie ciao ciao